25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i numeri di una piaga diventata emergenza durante la pandemia. Nei primi dieci mesi del 2021 sono stati denunciati in questura, lecco, 28 casi di atti persecutori, 8 in più, il 40% di quelli di tutto il 2020. Sono quasi raddoppiate le violenze sessuali, da 12 a 20, i casi di percoste e maltrattamenti in famiglia sono passati invece da 16 a 18, emessi dal quest'ora Alfredo D'Agostino, sette ammonimenti nei confronti di compagni e mariti violenti. A ottobre è stata adottata anche una misura di sorveglianza speciale per maltrattamenti in famiglia. Fondamentale l'opera di sensibilizzazione con i poliziotti oggi in piazza Garibaldi e Lecco per aiutare le donne a dire no alla violenza. Ci sono casi che si verificano anche nella nostra provincia con alcune difficoltà da parte nostra di intervenire perché c'è la paura di denunciare questi avvenimenti. Ricordiamo che la polizia ha un presidio fisso all'interno dell'ospedale. Capita che arrivino donne con i segni evidenti della violenza e non denunciano? Capita che arrivino delle donne con dei segni di violenza. Tante volte negano di essere state percosse, di essere state aggredite per paura di qualche ritorsione. Però di fondo c'è sempre un buon lavoro da parte dell'amministrazione e della Polizia di Stato che si occupa di questi casi e si riesce a lavorare abbastanza bene. Spesso noi facciamo questi interventi, quindi arriviamo sul posto dopo la chiamata al 112 e quando arriviamo lì notiamo anche evidenti segni di collutazione e purtroppo però a volte negano anche di essere state picchiate o comunque maltrattate dal proprio compagno o marito. E invece bisogna denunciare sempre? È questo il messaggio che si vuole lanciare oggi? Assolutamente sì. La Polizia di Stato ha realizzato un video così l'arma dei carabinieri che ha illuminato di rosso le serie del comando provinciale della compagna di Merate dove sono presenti i locali appositamente allestiti per l'audizione di donne vittime di violenze e abusi. Grazie.